Una parola che può riassumere quell'esperienza di 10 giorni molto faticosa è la parola investimento, per me è stata un investimento. L'ho già consigliata molte volte a ragazzi magari più giovani di me in cui però vedevo la stessa passione di inclinazione verso la politica che ho io. Ogni volta che mi venga chiesto la consiglio sempre perché è un'esperienza indimenticabile e oltre ad essere formativa è divertentissima. In questo periodo dove invece la politica viene continuamente messa sotto processo, fare una summer school, cioè una scuola dove i giovani capiscono realmente cos'è la politica con la P maiuscola è più che mai opportuno. L'ho consigliata perché, ripeto, si entra in contatto con persone intellettualmente stimolante, un mondo giornalistico, politico o intellettuale, sia italiano che internazionale. Ho deciso di fare la summer perché considero questa scuola alta formazione politica e soprattutto una possibilità di valorizzazione del merito e del talento. E poi è una semplice esperienza di condivisione anche con giovani come me che hanno delle aspettative in generale anche di informazione.